Buongiorno a tutti voi cari telespettatori questa è la rassegna stampa di Fano TV occhio ai giornali, sono le 7.30 siamo in diretta, come sempre i giornali sono pronti per essere sfogliati guarderemo le principali testate Carlino Messaggero e Corriere Adriatico però andiamo per ordine guardiamo l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo oggi sabato 23 aprile San Giorgio Vescovo il sole è sorto alle 6.11 e tramonterà alle 20.02 previsioni del tempo che diciamo subito non essere molto edificanti anzi ci aspetta un fine settimana e anche una giornata di lunedì festiva quindi non bellissima dal punto di vista naturalmente meteorologico come vedete anche la cartina molto eloquente cielo nuvoloso o molto nuvoloso sin dalla mattinata precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e più insistenti nelle ore pomeridiane quindi insomma nel pomeriggio peggiorerà temperature in diminuzione in particolare nei valori massimi quindi insomma un abbassamento brusco della temperatura dopo qualche giorno di alta temperatura doppia cifra previsioni naturalmente queste sono per la giornata di lunedì il cielo è parzialmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio precipitazioni nella prima parte della giornata deboli sparse localmente anche a carattere di rovescio temperature in ulteriore diminuzione queste sono quelle di lunedì quelle che abbiamo visto adesso che avevo pronte erano quelle per domani quindi di domenica vediamo quelle per oggi e anche qui direi che lo schema è lo stesso compare sempre la simbologia della pioggia quindi anche per oggi cielo nuvoloso per presenza di nubi stratificate precipitazioni deboli sparse lungo la fascia costiera maggiormente diffuse nelle zone interne però come abbiamo visto nella giornata di domani sarà tempo brutto e anche in maniera abbastanza decisa fin dalle prime ore della mattinata guardiamo i giornali quindi allora l'evento principale nella giornata di ieri è stata la visita della Boldrini a Fano presente in tutte le testate guardiamo quella del Corriere Adriatico la presenza della Boldrini ha avuto un momento culminante nel Teatro della Fortuna dove ha incontrato una platea piena di bambini e anche il coro che ha intonato l'inno d'Italia e poi l'inno dell'Europa l'inno alla gioia facciamo tesoro delle idee dei bambini queste le sue parole Laura Boldrini festeggia il Teatro della Fortuna per il convegno sulla città a misura di più piccoli vedete qui la terza carica dello Stato in compagnia di Laura Ricciatti il sindaco Seri e naturalmente il presidente del consiglio comunale che avanzano verso la piazza e anche naturalmente il messaggero non ha voluto mancare di riportare questa notizia sulle sue pagine siamo appunto in quelle che riguardano la cronaca locale Boldrini voi piccoli aiutate gli adulti il presidente della Camera a Fano per i 25 anni della città dei bambini questo è un ottimo esperimento anche queste le sue le sue parole vedete appunto nelle foto nelle foto alcuni momenti di questa cerimonia alla giovane platea cita Kennedy e si complimenta perché dice bravi nella vita non si può pensare solo a se stessi messaggi naturalmente importanti quelli che ha dato come messaggio ai più piccoli ma anche agli adulti presenti la giornata della terza carica dello Stato era cominciata nel San Bartolo sul San Bartolo a Pesaro e poi è finita tra i pescatori al pesce azzurro naturalmente per una cena nella cooperativa dei pescatori guardiamo le altre pagine ricominciamo dal resto del carlino la prima pagina pagina di apertura dell'inserto di Pesaro si parla di politica in testa e di ospedale unico adesso il movimento 5 stelle boccia l'ospedale unico manifestazione raccolta firme niente project financing meglio rimanere con con più presidi poi nella continuo di pagina si spalla c'è l'inchiesta sulla sanità che dopo vedremo anche all'interno con un articolo più approfondito i volantini di Ceriscioli erano regolarmente registrati e poi fotonotizia Pupiavati il noto regista italiano di tanti film di successo farà un film sulla MotoGP nella città appunto tra Pesaro e Tavulia e quindi insomma una pellicola dedicata al mondo dei motori e anche qui il Carlino Boldrini invita i bambini fanesi alla camera questo è avvenuto appunto al Pesce Azzurro nell'incontro con la Comarpesca quindi insomma un interscambio di visite e poi ventenne con la febbre dona sangue vacanza in oriente punta da zanzara e morsa da scimmia che questo è un articolo che vediamo dopo all'interno e allora vediamolo il film di Pupiavati come sarà come verrà girato Pupiavati fa un film sui piloti lo girerà tra Pesaro e Tavulia accordo firmato con la film commission market per la fine dell'estate e quindi il regista bolognese lo vedremo lo vedremo girare nelle strade pesaresi il precedente era stato appunto con Zingaretti e di recente è stato mandato anche nuovamente in tv il film con Zingaretti girato anche a Fano malattia di Dengue al rientro dalla vacanza ecco questo era il titolo giusto chiedo scusa malattia di Dengue al rientro dalla vacanza ventenne è stata punta da Zanzara in Thailandia è stata assalita da febbre altissima ma è guarita da solo da sola ancora nelle pagine del resto del Carlino andiamo in quelle che riguardano Fano concludiamo la rassegna per quanto riguarda il quotidiano bolognese si parla di carnevale di solidarietà ieri consegnato un assegno appunto alla mamma di Federico carnevale solidale consegnati 6.400 euro è il fondo raccolto per il bimbo gravamente malato tutti gli altri beneficiari non solo Federico ma insomma altri hanno usufruito di questa raccolta fondi da parte della carnevalesca lotteria benefica in tutto 28.000 euro raccolti dal sindaco Seri appunto un plauso alla carnevalesca queste le parole del primo cittadino ancora nelle pagine del resto del Carlino c'è cronaca nelle pagine che riguardano Fano e Val Cesano una truffa rifila libri per 10.000 euro a un'anziana alla sbarra rappresentante di commercio di Numana l'uomo di 55 anni accusato di cirgonfenzione di incapace il Corriere Adriatico anche il Corriere Adriatico nella sua pagina di apertura dell'inserto Pesor Orbino parla della Boldrini a Fano l'abbraccio dei bambini presidente della Camera al Teatro della Fortuna appunto per la commemorazione del 25esimo anno del laboratorio dedicato ai più piccoli e poi si parla di subito interventi nella zona mare sono i bagnini di Marotta che chiedono il ripristino di arredo e decoro urbano nuova scuola a Cucurano e Carrara e poi anche qui di spalla le intercettazioni per svelare il raggiro degli appalti questa era l'apertura del Corriere Adriatico e allora vediamo la pagina di Pesaro dove si parla appunto di accordo a 8 unione a 8 comuni piano di fattibilità municipale e finanziamenti ecco questi sono i nodi dell'accordo della super città come cita Letizia Francesconi nel suo articolo riparare gli acquedotti poi studiare le falde profonde il consigliere Fabri contro la captazione prevista in località San Lazzaro e Sant'Anna del Furlo insomma le perdite d'acqua causano oltre che grossi danni al terreno con possibilità alle volte di frane come alle volte è accaduto anche a Orciano però anche grossi costi per tutta la collettività e nelle pagine del Corriere Adriatico si parla di buone notizie per gli amanti del nuoto perché Ricci ha effettuato un sopraluogo nel cantiere di Via Togliatti qui niente incompiute dichiara perché la piscina la piscina di Via Togliatti sarà pronta per settembre nelle pagine del Corriere Adriatico di Fano vi evidenzio appunto un'altra notizia Ignazio Pucci nuovo segretario oggi il PD chiude la pratica questa era una di politica ma vi faccio vedere anche sempre in tema di ospedale di politica la raccolta firme per il referendum sull'ospedale unico firme pronte il 29 consegna e manifestazione il comitato chiede a Seri di partecipare ma appunto a questa manifestazione per consegnargli appunto le firme raccolte ma il primo cittadino prende un po' di tempo ancora nelle pagine del Corriere Adriatico però andiamo a Senigallia e anche qui si parla di cronaca però un brutto episodio bimbo si ferisce sullo scivolo parchi trappola ancora un incidente a Cannella un bimbo di 5 anni si fa male sbattendo contro un ferro sporgente e qui nella pagina di Senigallia l'elenco dei parchi pubblici quali sono queste aree le aree ahimè in degrado e poi si parla anche di sicurezza nella pagina di Senigallia in vista dell'estate della bella stagione quindi estate sicura anche qui si fa task force per estate sicura tra carabinieri polizia e municipale cambiamo testata andiamo nel messaggero messaggero la pagina principale apre in testa con le intercettazioni intercettazioni naturalmente parliamo della inchiesta sulla sulla sanità inchiesta appalti azur per l'accusa gli staff dei presidenti erano a corrente di irregolarità delle noci dice contributo per i volentini elettorali a norma o fiducia nei magistrati anche qui fotonotizia con una raggiante Laura Boldrini appunto beata tra i bambini dice la di Dascalia e poi anche qui è riportata la disavventura di questa ragazza che è stata morsa in vacanza da una scimmia ma scatta l'allarme per sospetta rabbia anche dal ritorno dall'Indonesia diminuiscono le multe adesso vediamo anche l'articolo che riguarda questo aspetto 6.000 multe in meno siamo a Pesaro parla il comandante Galdenzi dice perché abbiamo pochi agenti 6.000 multe in meno come dato numerico il comandante dei vigili appunto diminuiscono i verbali perché è difficile che gli automobilisti siano più disciplinati è solo una questione di mancanza di agenti e quindi mancanza di controlli che si fanno e per cui numericamente i dati calano allora eccola qui l'inchiesta anche sui contributi alle urne Ceriscioli 44.000 euro di contributi per le urne metà dalla sanità privata sul sito della regione le entrate dichiarate dal governatore Spacca invece non pubblica l'elenco ma non ne ha più l'obbligo non ha più l'obbligo di farlo e appunto il rilancio della prima pagina era questo gli staff dei due presidenti conoscevano le irregolarità volantini elettorali per spacca e ceriscioli accuse basate su delle intercettazioni e la Medilife l'azienda appunto sotto la lente di ingrandimento a caccia di appoggi bipartisan per continuare a lavorare in ambito sanitario l'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di appunto Fano per quanto riguarda il messaggero si parla della nuova scuola che avrà anche una palestra che sarà a disposizione della collettività sarà aperta anche in orari extrascolastici ci saranno anche dieci aule quattro laboratori i lavori partì in anno entro l'anno è stato pubblicato il bando che scade a fine maggio e appunto questa struttura sarà una risposta anche per chi pratica sport e in basso ospedali seri non chiude al referendum il comitato pro Santa Croce ha incontrato il sindaco che ora dovrà parlarne con la con la maggioranza bene questa era l'ultima notizia vi faccio vedere come sempre quella riportata nelle pagine del messaggero di Fano questo è tutto per questa rassegna stampa che torna naturalmente martedì lunedì è festa alle 7.30 naturalmente puntualmente su Fano TV un saluto anche a coloro che ci seguono in replica durante il corso della mattinata e alle 13.30 grazie per la vostra cortese attenzione buon sabato e buon fine settimana tempo permettendo naturalmente a presto a presto